ciao ecco qui il circuitino montato e testato qui si vede il micro atmel atmega85 dall'altra parte c'è il led e il regolatore di corrente ho dovuto mettere questo spessore qui per far sì che stava dentro bene nella presa bussb se io prendo il power bank lo spessore fa sì che stia dentro bene perché il circuito stampato è da 1.6 gli ho aggiunto 0.5 quindi dobbiamo arrivare a circa 2 e qualcosa lo innestiamo dopodiché lui parte ricordandosi il programma memorizzato io ho memorizzato quattro programmi che sono richiamabili da questo pulsante vediamo lo metto qui che magari sono di qua partiamo da una condizione di spento primo programma è un lampeggio ad alta intensità il secondo programma è lampeggio a bassa intensità il terzo programma fa due lampeggio a bassa intensità uno ad alta e uno bassa il quattro programma ne fa uno ad alta e uno bassa in bassa intensità per memorizzare il programma nella e pro seleziono programma per esempio questo tengo premuto quando si accende fisso vuol dire che lui l'ha memorizzato nella eiprom a questo punto lascio e se lo ricollego tiene memorizzato l'ultimo programma che è stato inserito nella eiprom per fissarlo sulla bici lo si può fissare con del velcro al tubo sella così volendo si può proteggere con un sacchettino e fare una cosa sigillata o addirittura tutto sigillandolo così e fissandolo al tubo sella così resta protetto dentro di un sacchettino trasparente oppure si può prendere un cavetto di prolunga mettere il power bank nella borsetta sotto sella dove si tengono gli attrezzi per la sostituzione della camera d'aria quindi si mette la prolunga questo qui si mette dentro si fa uscire solo questo qui e si fissa sotto sella o vicino solo il led anche in questo caso volendo si può proteggere con una busta in plastica se hai la termosaldante la puoi sigillare volendo c'è anche la posizione di spento che è questa che l'ho fatto per capire qual è il programma 1 2 3 4 i programmi se ne possono inserire quanti se ne vogliono ovviamente così memorizzato chiaramente con il programma spento il led spento nella condizione della spento c'è una minima circolazione di corrente nella batteria alcuni power bank se non vedono circolazione di corrente in uscita spengono power bank quindi per poter riaccendere bisogna premere sul pulsantino o reinserire il tutto questo è un power bank vecchio che non ha quel sistema lì di controllo automatico ed è molto comodo perché anche in condizioni di spento lo tiene alimentato e se io ripremo posso andare a riaccendere il tutto troverai gli schemi e il pcb nel link in descrizione su cui farò un upgrade di alcune cose che ho visto che non vanno bene tipo metterò dei componenti in formato più grosso in maniera da saldarli più più facilmente sistemo la piazzola del led che è sbagliata e faccio più lungo questo punto qui perché ho visto che in alcuni power bank vanno a sbattere qui è meglio che venga inserito più a fondo torniamo al progetto sui zeda questa è già la versione 1.1 con le modifiche apportate rispetto al prototipo si può dire che è già una versione definitiva le migliorie fatte sono è stato spostato questo angolo di mezzo millimetro è stato allargato il pcb e allungato sono stati sostituiti tutti i componenti portati in 0805 il pulsantino non è corretto non ho trovato footprint non sono stato lì tanto a cercarlo anche di qui sono stati cambiati i formati di questi componenti ed è stato cambiato il pad del led della creeper che era sbagliato il resto è a posto lo schema era corretto ho solo cambiato il valore di queste due resistenze perché leggendo sul data sheet del cn5711 mi sono accorto che il valore minimo di r8 e 30k quindi la corrente minima deve essere 60 milliampere anche se io ho provato con 80 90k funziona lo stesso quindi il micro quando abilita l'integrato tramite il ce andrà in bassa corrente perché l'i7 viene fatto da questa resistenza quando gli arriva anche questa uscita dal micro viene posto in parallelo questa resistenza a questa e la corrente passa a 380 miliampere vediamo il grafico di funzionamento il pulsantino con 4 più 1 funzione qui vorrei mettere la quarta 4 uguale off e poi riprende dallo 0 nel caso dello 0 ci sono due impulsi ad alta corrente vengono buttati fuori 110 millisecondi on 890 off e così avanti in alta corrente quindi a 380 miliampere che vediamo qui nel modo 1 due impulsi di bassa corrente da 200 millisecondi quindi a 60 miliampere il modo 2 che è quello che mi piace di più sono quattro impulsi di cui i primi due da solo 20 millisecondi che sono impercettibili poi arriva un impulso ad alta corrente lunghissimo 200 millisecondi quindi è un flash fortissimo dopodiché ne arriva uno da 200 in bassa corrente e poi sta spento per più di mezzo secondo 600 millisecondi in maniera che ci sono questi tre impulsi a bassa corrente e questo qui forte quindi fa un effetto molto bello quest'ultimo ha un impulso di alta corrente da 100 millisecondi fa una pausa come questo è un impulso di 80 millisecondi quindi sono tutti e quattro completamente diversi l'alta corrente 380 la bassa corrente 60 il led usato è questo qui CRI se vuoi approfondire puoi cercarlo con questo codice di datasheet della CRI vediamo brevemente il programma che ha fatto su Arduino che è questo ho usato la libreria pin button per gestire il pulsante quindi impulso breve l'impulso lungo che gestisce anche i rimbalzi del pulsante stesso e la libreria e quadro prom assegno i pin l'input 0 sul pulsante l'output 1 e l'abilitazione del driver l'output 2 e l'alta corrente metto l'ingresso 0 in pull up perché non ho messo la resistenza esterna vi assegno un po' di variabili sono tutte commentate poi il programma lo trovi in descrizione nel setup viene anche letta la epro alla prima accensione c'è questa variabile count che va da 0 a 4 quindi legge nello stato precedente e fa gli impulsi che del modo che è stato impostato qui c'è la gestione dei vari flash quindi modo 0 modo 1 modo 2 modo 3 con tutti i tempi se devo modificare sono questi on e off qui la gestione dello stato precedente e corrente del tempo per fare il timer la gestione delle uscite a secondo del del count che è questo qua se 0 1 2 o 3 cosa devono fare questa via gestione del fronte per contare gli impulsi li conta sull'uscita 1 questo è il loop l'update del per leggere il pulsante se clic lungo scrive nella apron questo numero da 0 a 4 e accende l'uscita 1 fissa quando è passato il tempo lungo quindi capisco che l'ha memorizzata incremento il contatore ogni volta che viene rilasciato il pulsante qui è la gestione dei conteggi se è 5 se è maggiore di 5 maggiore uguale a 5 lo riporta a 0 fate il 4 è off e così via se 4 fa l'off li mette all'off tutti e due è un programma semplicissimo che è facile anche da modificare e solo tirare dentro queste due librerie una cosa importantissima di cui mi dimenticavo è come programmare un micro a t85 adesso si programma direttamente dall'usb inserendola nel pc se cerchi con google program dc spark troverai tantissime istruzioni ho preso la prima che è uscita la prima cosa da fare è installare tutte le librerie in preferenze file preferenze qui additional board manager bisogna inserire questa riga qui oppure questa è differente dopo di cre nel board manager quindi in tools board manager troverai la nuova libreria delle board che questa attualmente la 167 infatti supporta il digispark default 16,5 che è questo qui utilizzato mattini 85 dopodiché bisogna installare anche i driver che fanno vedere il dispositivo quando si innesta nell'usb anche qui se cerchi con google li trovi facilmente digistamp avviare board e li troverai installati come usb digispark board loader poi bisogna selezionare in tools board apparirà il digistamp avr board selezioni il primo default 16,5 megahertz si compila dopodiché il dispositivo venne stato solo quando lo dice plug in device infatti se io faccio un upload qua lo compila finita la compilazione qui sotto esce plug in device now che c'è tempo 60 secondi se lo si inserisce prima o dopo non viene rilevato e non è possibile programmarlo questo è il datasheet della CRI che puoi andare a consultare per ulteriori informazioni per questo progetto è tutto se lo realizzi scrivimelo qui sotto nei commenti se il video ti è piaciuto mettimi mi piace se non sei ancora iscritto il canale iscriviti e ci vediamo sentiamo al prossimo video o al prossimo progetto ciao